Nella domenica precedente al Natale, come sappiamo, la Chiesa ogni anno ci fa riflettere, ancora una volta, contemplare la fede esemplare di Maria. Siamo al capitolo primo di Luca. Maria si reca a rendere visita, a mettersi a servizio di sua cugina Elisabetta. A che devo che la madre del Signore venga a me? Ecco, appena le mie orecchie hanno ascoltato la tua voce, il bambino ha esultato nel mio seno. Una prima considerazione riguarda che Maria viene presentata come la nuova arca dell'alleanza. Davide danza dinanzi all'arca, Giovanni Battista esulta dinanzi alla Vergine Maria. Madonna allora diventa la nuova vera dimora. Dio non si manifesta più attraverso un simbolo, il Tempio, ma in Maria, che è presente fra di noi. In ogni uomo allora Dio vuole dimorare, non come il misterioso, una presenza misteriosa, ma come il vivente, colui che viene a santificarci con la sua presenza, come ha santificato il seno di Santa Elisabetta e della Vergine Maria. Allora ci dobbiamo chiedere, ma con quali atteggiamenti, con quali impegni noi costruiamo, edifichiamo questa presenza di Dio fra gli uomini? E dall'altra parte Luca ci presenta come Maria, come una donna vittoriosa. Le sue parole evocano espressioni guerriere. L'arca che precedeva il popolo quando andava in guerra. L'inno di esultanza di Maria che rievoca quello di Giuditta di fronte al grido di Elisabetta, il grido di Gioele di vittoria sul nemico, quello di Giuditta nei confronti di Oloferne. Assicura questo grido per noi la vittoria definitiva del popolo, di noi tutti, di tutti i tempi, in cui il peccato e il dolore saranno superati, in cui Gesù viene a dare una dimensione nuova a tutto quello che ci impedisce di vivere la dignità dei figli di Dio. Michaea ci richiama come da un borgo insignificante, da Bethlehem uscirà colui che deve regnare con giustizia e pace su Israele e sui popoli. La lettera delle brecce ricorda invece come il Cristo viene nel mondo per fare la volontà del mondo, del Padre, e ci santifica mediante l'obrazione, l'offerta di se stesso. Non hai voluto né offerta né sacrificio, un corpo mi hai dato, ecco vengo per fare la tua volontà. Dicevamo delle espressioni di Giuditta e con le parole di Luca quasi recheggiano alla lettera. Giuditta dice Benedetta sei tu figlia davanti al Padre Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. Così anche Davide che esclama dinanzi all'arca come potrà venire da me l'arca del Signore? Allora vedete anche in Maria si adempie la promessa del popolo ebraico. Gesù, il Salvatore, nasce. Allora prepariamoci in maniera degna, perché la nostra vita, il nostro cuore, le nostre preoccupazioni trovino posto, facciano spazio alla presenza del Verbo incarnato. Viene Gesù a salvarci, viene a dichiarare il suo amore per ogni fragilità umana, ecco perché Lui ci fa fratelli. E questo fratelli tutti, come ci ricorda Papa Francesco, passa attraverso l'analisi, la prospettiva dei grandi problemi a livello universale, ma anche dei piccoli rapporti che noi dobbiamo, ecco, contraddistinguere con la presenza vivificante della parola. Che il Natale allora ci trovi pronti, desti, ad accogliere la nascita di Gesù nel cuore, nella vita, nella nostra società, di ciascuno di noi. Buona e santa domenica a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.